Si è tenuta questa mattina nel Tribunale di Pesaro l'udienza di convalida dell'arresto di Ezio di Levrano, 53 anni, recluso da sabato nel carcere di Villa Fastigi per aver ucciso a coltellate la moglie Ana Cristina Duarte Correia, 38 anni, di origine brasiliana. Un femminicidio consumatosi nella notte fra venerdì e sabato al culmine di una lite all'interno delle mura domestiche di Saltara di Coglia al Metauro. Un brutale accoltellamento di fronte ai tre figli della coppia di 14, 13 e 6 anni che hanno visto uccidere la madre davanti ai propri occhi. Oggi Di Levrano, all'udienza davanti al GIP, ha fatto scena muta. L'imputato si è avvalso la facoltà di non rispondere e adesso il giudice emetterà l'ordinanza sulla misura cautelare che è stata richiesta, che è stata della detenzione in carcere. La Vergara è stata assegnata come avvocato d'ufficio ma sarà avvicendata nella difesa di Di Levrano. Intanto però descrive così gli stati d'animo del suo assistito durante la visita nel penitenziario. Questa mattina sono andata in carcere e l'ho potuto parlarci per un quarto d'ora, venti minuti. L'ho trovato molto provato comunque. Molto provato, molto addolorato per i suoi figli. I rapporti non erano buoni, c'erano delle tensioni familiari, gelosie, cose di questo tipo. Ingiustificato sicuramente. Di Levrano, che a più riprese, ha chiesto informazioni sui figli. Certo, mi ha chiesto dei figli. Certo, certo, sono la sua preoccupazione principale. Proprio sui figli, unici testimoni oculari, si sono concentrate le indagini degli inquirenti, minori che ora sono stati affidati ai nonni paterni. Ascoltati anche vicini di casa che hanno udito le grida nel cuore della notte e hanno accolto i bambini scioccati nei concitati momenti susseguenti al delitto. Dato l'allarme, Di Levrano è stato catturato poco dopo l'arrivo dei carabinieri, mentre si trovava nel campo da calcio sottostante l'abitazione di via San Celestino V Papa. Una casa della curia in cui Di Levrano abitavano da pochi mesi. Il tutto a pochi metri dalla scuola media Leopardi, frequentata da due dei tre bambini. In retroscena del delitto fanno emergere come Anna Cristina se ne fosse andata di casa da alcuni giorni come segnalato dal marito agli stessi carabinieri. Anna Cristina che era stata poi contattata dai militari, appurando dai racconti come ci fossero violenze e maltrattamenti pregressi ma mai denunciati. E' scattata comunque la procedura urgente del Codice Rosso per i casi di violenza di genere. Nella notte di venerdì Anna Cristina dunque decide di rientrare in casa mentre tutti dormono, forse per vedere i figli, forse per cercare un chiarimento. Quello che trova invece un alterco violentissimo col marito che la trafigge più volte all'addome. Cinque coltellate come ripetuto più volte dal figlio di sei anni ai vicini di casa. La donna è morta all'ospedale di Ancona dopo il trasporto in elissoccorso. Ora il via ad un procedimento giudiziario in cui di Levrano rischia l'ergastolo. Intanto il comune di Coglialmetauro ha organizzato per giovedì sera una fiaccolata del paese in memoria di Anna Cristina.